Si sono conclusi quattro incontri con lo sport promossi dal centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle, dal gruppo Sautini Auto e da Radio Vera. Quattro pomeriggi nei quali si sono alternati nella zona food i ragazzi dell'artistica Brescia, quelli della palestra Fitness Club e della New Academy Dance. Interviste ai grandi campioni dello sport bresciano, Luca Miotto, il club Scherma Leonessa, Daniela Merighetti, l'Atlantide Pallavolo Brescia, il foot golf Brescia Leonessa, la palla mano Leonessa e il basket in carrozzina dell'associazione Icaro Sport Disabili. Hanno arricchito le giornate alle quali hanno preso parte anche i ragazzi della ciclo storica Franza Curta, cicli e motocicli belleri e tre associazioni, Cuora di Donna, Ant e Aism. Un'occasione per incontrare dal vivo i campioni del nostro territorio e magari per scoprire delle realtà che ancora non ci erano note, oltre chiaramente a un invito ad avvicinarsi ai nostri sport, ai nostri atleti e alle nostre società.